Dall'inizio dell'estate, Mirta Merlène si è promesso di aver portato un respiro di notizie al Pomeriggio 5. Il programma che alterna informazioni sul costume e sul dibattito. Ora, con i dati in mano, un cambio di ritmo sembra essere già necessario. Il contenitore pomeridiano di Canale 5 non si rompe e viene costantemente battuto dalla vita rivale. Rai Live. Il problema. Secondo quale trappola? Sarebbe attribuibile soprattutto al tempo dedicato alle notizie sul crimine. Malumori in The Mediaset House. Passage Passage c'è il nome dopo un debutto incoraggiante. La nuova versione del Pomeriggio 5 sta già subendo le prime battute dal resto. Questo non causa poca preoccupazione nei leader dei Mediaset. Accetto a una notizia lanciata da Il Figlio. La società penserebbe già a un nuovo presentatore e sarebbe Simona Branchetti. Tuttavia, emerge ulteriori dettagli. Per cercare di sondare il terreno e capire cosa non soddisfa il consenso degli spettatori. Si capisce che dietro le opere traballanti ci sono i temi di discussione scelti. Mediaset mette la mano il pomeriggio 5 ascolto di allarme. Quali modifiche gran parte del pubblico ha sottolineato che nella seconda parte della trasmissione. Ci sono sempre argomenti di cui è già stato detto, e ha scritto. The Black News. È brava. Ma il programma iniziò con una serie di terribili notizie. Dall'Orso ad Abruzzo allo stupro di Palermo. Passando attraverso la povera Giulia improvvisamente uccisa dai suo ragazzo. Di fronte alla spontaneità. Anche Adurso parlava di Sadeventi. Ma ha sempre saputo ridere del sorriso. Quindi il programma sembratò a Black News bollettino. Grazie a tutti.